Con la presidenza di Antonio Ursino e la direzione artistica di Francesco Iacon Antonio, anche quest'anno l'associazione Sisaid Cultura propone alla cittadinanza una ricchissima edizione di Mari Natale. La manifestazione natalizia che si svolge nel quartiere Lido di Catanzaro avrà luogo su giovedì 8 dicembre a partire dalle ore 17. Notevoli e molteplici gli sforzi organizzativi con grande attenzione come sempre alle problematiche che riguardano la sicurezza, il traffico, la viabilità e l'ordine pubblico. Su questo fronte è vigile il presidente Ursino, sempre presente al fianco di commercianti, imprenditori e forze dell'ordine, per garantire una rassegna che consenta un afflusso ed un deflusso in grande tranquillità fino a sera. Come in ogni edizione infatti è stato costante il confronto con tutti gli attori impegnati, coordinati dallo stesso Ursino che ha dimostrato grandi attitudini al dialogo. Si tratta senz'altro di una conferma per l'associazione Sisaid, da tempo leader nell'organizzare occasioni e momenti culturali di aggregazione per la comunità. Un percorso che consta di tre manifestazioni importanti spalmate durante i 12 mesi, ovvero Vicolin Festa, la Festa del Mare e appunto Mari Natale. Molto vario e ricco, dicevamo, il programma anche nell'edizione 2016. Ci sarà il concerto natalizio coro sinfonico, l'esibizione di danza, ospiti d'eccezione, musica live itinerante, intrattenimento musicale, il presepio vivente, l'esposizione di presepi, intrattenimento per bambini, musica live, la segra delle zeppole, le stemporanee di pittura e gli stand d'artigianato natalizio. Insomma davvero per tutti i gusti. Appuntamento quindi con Mari Natale 2016, succorso progresso a Marina di Catanzaro, giovedì 8 dicembre a partire dalle ore 17.